Circolazione nel caos stamattina lungo la panoramica dello stretto. Una grossa frana ieri sera ha reso necessaria la chiusura di un tratto di strada in direzione sud. E stamattina i tanti residenti che abitano a nord si sono ritrovati in coda lungo la panoramica, costretti a scendere sulla consolare Pompea all'uscita di Fiumara Guardia. Un'ampia porzione di terreno sabbioso è infatti venuta giù dalla montagna. Tra quest'uscita è quella di pace. Il cedimento di terreno misto a sabbia è il momento intrappolato nel muro di contenimento che sovrasta dalla strada. C'è il rischio però che il grosso quantitativo di terra si riversi sull'asfalto. Già pietrisco e sassi spinti dal vento sono finiti sulla strada. Il pericolo quindi che soprattutto gli scuderisti possono finire per terra è elevato. Per questo il tratto compreso tra le tue bretelle che conducono in via consulare Pompea è stato chiuso al traffico. Regolare invece è la circolazione nella corsia verso nord. I tecnici della città metropolitana di Messina e della protezione civile stamattina hanno effettuato un sopralluogo per decidere come intervenire. Prima però di avviare i lavori si dovrà capire a chi spetta il compito di farlo perché il terreno oggetto della frana pare sia di un privato. Ci vorrà quindi del tempo prima di riaprire l'importante arteria stradale che oltre a collegare i villaggi e la zona nord al centro urbano serve anche la facoltà di ingegneria e l'ospedale Papardo. Sul posto è intervenuto anche il personale della protezione civile. Per garantire la sicurezza agli automobilisti la zona è costantemente presidiata dalla polizia metropolitana.